Buonasera a tutti, cari ascoltatori meteo e vi trovate in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, assolutamente il like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo ad analizzare per quanto riguarda le temperature nei prossimi giorni. Provo perché si sta parlando di una temperatura veramente molto bassa e congelata in oltre anche molto intense. Da come abbiamo già visto anche nel precedente video, una forte reazione d'aria più gelida si avvicina verso il nostro paese e sosterrà per qualche giorno, portando a temperatura di netta diminuzione. Questa volta anche una quota neve molto più bassa. Si andrà a creare comunque come possiamo anche vedere da qua all'inizio un cuscinetto molto più freddo per quanto riguarda su tutto il Piemonte. Dove qua le temperature minime stiamo parlando anche durante le notate di meno 3 e le massime di 6-9 gradi. Per quanto riguarda tutto il resto della Valpadana, minime comprese tra i meno 3 e i meno 1 e massime comprese tra i 6 e i 10 gradi. Per quanto riguarda il centro, temperature massime previste intorno ai 10-12 gradi e andando sempre più sud le temperature massime si arriveranno anche quasi a 20 gradi. Per quanto riguarda invece le minime stiamo parlando sul centro nord di circa 2-2 gradi di minima e verso sud temperature minime che non dovrebbero andare sotto i 10-11 gradi. Il gelo è un po' più stretto sarà soprattutto al nord e sulle estremonti dove qua potrebbe anche lungo l'Appennino andarsi ad attaccare una temperatura minima anche di meno 13 gradi. Mentre sulle Alpi faremmo anche quasi fino a quasi la meno 20, intorno ai 2000 metri. Questo è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e ci aggiorneremo in un prossimo video. Grazie a tutti.